Così come qualche fiore riesce a spuntare dal più solido cemento, anche nel variegato mondo del commercio esistono ancora piccole attività a gestione familiare capaci di reggere la concorrenza di supermercati e vendite online tenendosi stretta a una clientela numerosa, almeno quanto esigente. È il caso della storica macelleria Consonni di Venegono Inferiore che quest'anno spegne 55 candeline. Abbiamo aperto dal 1963, abbiamo partecipato a tantissime fiere qua in Lombardia, in Piemonte e abbiamo tutti i premi là esposti. Fiore all'occhiello della Consonni, l'appartenenza unica in provincia di Varese al Consorzio di tutela della razza piemontese. Far parte di questo consorzio comporta quindi avere tutta una serie di garanzie ulteriori e certificazioni. Infatti noi abbiamo, a differenza di chi non fa parte di questo consorzio, la carta di identità proprio dell'animale con il numero di auricolare dove appunto viene spiegato dove è nato l'animale, quando è nato, di che razza è, dalla stalla di provenienza e tutto questo è anche poi riportato nello scontrino della bilancia. Anche il cliente stesso con il numero di auricolare può entrare nel sito del consorzio e vedere proprio l'intera filiera quindi l'intera vita dell'animale fino al macello. E avanti così, di generazione in generazione, verso il prossimo giro di Boa, ma sempre con la barra dritta sulla qualità della carne e su di un trattamento delle bestie che non rinuncia alle regole della tradizione. Abbiamo sempre tenuto la razza piemontese di prima qualità, macelliamo solo femmine, manzi castrati e a dicembre i bue grasso. Nelle nostre stalle vediamo cosa mangiano gli animali, non assaggiano un filo di magime, partono con grano turco, soia, orzo e crusca. Questa è la nostra alimentazione, delle nostre bestie e proseguiamo con questo passo e ci troviamo contenti che in piedi ci siamo ancora dopo 55 anni. Ringrazio i miei clienti affezionati che vengono dai paesi limitrofi, da Saronno, da Busto, da Legnano, da Galarate. Abbiamo un giro, Castiglione, Vedano, Malnate, Tradate. No, no, abbiamo... Grazie a Dio ci siamo difesi bene, con la qualità e ci conoscono.